buongiorno ragazze ciao a tutte ea tutti allora nuovo video blog come state io bene anche se io ero abbastanza stanca come avrete visto sicuramente dal video ma avevo voglia di girare lo stesso un video un video chiacchiericcio innanzitutto volevo dirvi semplicemente che stamattina la giornata non è bellissima non è neanche tanta brutta io e le mie stranezze ma vabbè dettagli comunque nulla innanzitutto adesso vorrei farmi il letto perché sono in condizioni piuttosto ie e vai nulla quindi non sto registrando con il mio xiaomi ma col mio iphone lo so che non importa nulla nessuno con cosa registro con cosa edito ma da con avanti metterò tutto nelle info box con cosa edito e con cosa registro e di ciò che parlo nei video così dal modo tale che capiate cosa c'è scritto nella nella info box se parlo di ogni cosa se quello che mi dimentico appunto lo scrivo nell'info box e anche quello che a volte non faccio lo scrivo lo stesso perché tanto alla fine lo farò nel senso tipo faccio ginnastica però non la faccio in diretta con voi ve lo scrivo nell'info box tipo mi faccio un outfit e mi dimentico dimostrarvelo vi dico cosmo e come mi son vestita sopra ogni cosa che metto c'è tipo adesso sono in pigiama non mi vedete che sono in pigiama non so cosa si possa ben vedere ma sono in pigiama e questo pigiama e della ragno quindi nulla una 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 marca ma molto famosa non so se voi l'avete per esempio la vendeva mia nonna ed è molto buona comunque nulla io adesso faccio il mio letto velocizzo le immagini perché mi rendo conto che velocizzano le immagini no scusate vi rende il video abbastanza veloce da guardare ma soprattutto piacevole da ascoltare vabbè ascolterò più che altro guardare eccetera quindi nulla cianci alle bande bando alle ciance ci vediamo dopo a presto tanto stacco e poi ve lo utilizzo il video allora niente allora ho fatto il mio letto potete vederlo anche voi stavolta non è stropicciato non mi dite niente perché non è così si lo so sono polemica però è la verità non c'è nulla da dire mi sta bene così il letto e ho spento anche la tv perché vabbè non l'avete visto non l'avete sentito nulla nella videoclipi perché ovviamente quella clip la vedrete velocizzata vedrete a me che faccio la scema perché vi sorride vi saluto e poi si ovviamente continuo a fare il mio letto e poi nulla a parte questa cosa aspetta che mi giro vedete quel comodino di là si proprio quello lì quel comodino io lo vorrei cambiare nel senso non che compro un comodino perché quello è sacro per me per scherzi come ho messo non mi piace quindi cioè non è che come ho messo non mi piace come ho messo quelle cose lì ovvero tutte quelle scatole scatoline cose varie preferisco rimetterle ovvero un po' più in ordine perché ho sentito che non mi piacciono come ho messo tutte le mie cose in camera mia quindi ho detto sì qualcuna avrà ragione ma io ognuno è libero di tenere le proprie cose come vuole però da una parte da fastidio anche a me vedere le cose troppo disordine quindi adesso mi metto di buona lena le registro le rimetto a posto tra poco e poi vedrete tutto in ordine in un altro video a parte perché vi farò vedere che l'avrò messa realmente a posto che non vi dico palle ok nulla e nulla questo era tutto ragazze io adesso scusate se vi faccio di mal di male ma non so bene mai come mettermi per adesso il video è tutto stamattina la giornata non è dei migliori come potete ben vedere vabbè si vede un po' sfocato aspettate ecco vedete no non è il massimo la giornata perché è abbastanza nuvolosa di lei però vabbè non importa dai alla fine se esco esco a fare la spesa se no rimango in casa però voi non vi dovete non mi dovete vabbè giudicarlo farete lo stesso che vi devo dire ditemi ciò che volete ma ognuno della propria vita fa quello che le pare con questo io vi saluto vi mando un bacino e vi abbraccio fortemente virtualmente e ci vediamo in un prossimo video tag o che sia altro ciao ciao zombie apocalypse Grazie a tutti